Erano diventati il terrore di gran parte degli esercizi commerciali di Mister Bianco. Li vediamo in azione nelle immagini fornite dai carabinieri di Catania. Col viso scoperto e pistola in pugno uno, cappuccio in testa l'altro. Qui siamo in una farmacia, poi in due supermercati. In un mese e mezzo, dal 1 agosto al 16 settembre dello scorso anno, erano riusciti a mettere a segno 15 rapine, in media una ogni tre giorni. Rapidi, determinati, in quattro avevano messo su una vera e propria banda. Un'attività lucrosa alla loro, ma durata poco per l'intervento dei carabinieri di Mister Bianco, che hanno individuato ed arrestato in breve i componenti dell'associazione criminosa. Il capo era il più piccolo di tutti, Salvatore Angelo Giunta, di 23 anni. La base logistica era la casa di Salvatore Agnello, nel quartiere Serra Superiore di Mister Bianco. Lì la banda individuava gli obiettivi e organizzava i colpi. Vittime, farmacie, parafarmacie, supermercati, McDonald's, distributori di carburante, di Mister Bianco, ma anche di Catania, Gravina, Cannizzaro, Mascaluccia e Acci Reale. I primi ad essere stati arrestati, colti in fragranza di reato, mentre compivano una rapina in una farmacia di Catania, questa, sono stati proprio Agnello e Giunta. Da lì sono poi partite le indagini per individuare gli altri componenti della banda. In manette sono quindi finiti Salvatore Mirco Bivona e un incensurato di 37 anni. Fondamentale per le indagini è stata la collaborazione dei commercianti che avevano subito le rapine. Attraverso le foto segnaletiche mostrate dagli inquirenti hanno riconosciuto gli autori delle rapine e posto fine a un incubo.